Se fai tanti shorts, preparati a guadagnare di più. YouTube dal 15 di ottobre ha portato la durata degli shorts a 3 minuti. Anche se tutti non avete ancora attiva questa cosa, non preoccupatevi. Qualsiasi video fino a 3 minuti in verticale o quadrato, insomma nei formati che rispettano gli shorts, che è stato pubblicato dopo il 15 ottobre, diventerà uno shorts. Ci sono varie fasi. Speriamo che arrivi presto per tutti i canali, però è una notizia molto interessante. La notizia è molto interessante perché da un lato c'è il pubblico che si è abituato a guardare i video in formato verticale e li guarda per tanti minuti su altre piattaforme. E dall'altro abbiamo YouTube che è fortissima nella parte di monetizzazione della pubblicità e potremo finalmente vedere delle innovazioni anche nel settore dei video brevi. Approfondiamo tutti e due i punti, ma partiamo dal primo, il pubblico. In altri ambienti come TikTok e Instagram, da molto tempo i video brevi, quelli in verticale, durano più di 60 secondi. Quindi le persone si sono abituate a guardare vari tipi di formato. E la cosa interessante è che tanti creator hanno imparato a creare dei video brevi più lunghi intrattenendo il pubblico per un tempo molto molto alto. Di conseguenza si ritrovano con tanti video che possono pubblicare solo in alcune piattaforme, ma non su YouTube. Da oggi finalmente potranno farlo. Non fatevi ingannare troppo dal nome YouTube Shorts, ho visto vari commenti che sembra che questo sia un controsenso. Non lo è per tanti motivi. Il primo è che quello che viene considerato breve oggi non lo è domani. I tempi dei video si stanno allungando di molto. Anche su YouTube la durata media di un video, di una visione, non è più come un tempo di 10-15 minuti. Ci sono dei video che durano ore e ore e le persone li guardano. Ma soprattutto non fatevi proprio ingannare perché il brand può perdere poi il significato originale per come è stato inventato, diciamo così. Non c'è alcun controsenso come creator. Anzi, dovreste approfittare, diciamo, da questa opportunità perché è un formato sicuramente molto interessante per il pubblico giovane, molto interessante ormai per tante altre, diciamo, fasce d'età. Questo consente di esplorare veramente tante altre tipologie di formati e di collegare in modo ancora più forte i nostri video lunghi ai video brevi. Ma passiamo alla seconda cosa, la monetizzazione. Perché diventa interessante? YouTube, lo sappiamo, è l'ambiente sociale dove si guadagna di più, a volte 10 volte tanto, a volte 20 volte tanto. Non solo perché ha un sistema, ovviamente, molto più avanzato di tutti gli altri. YouTube è l'ambiente sociale che ha lanciato la creator economy tantissimi anni fa, più di 15 anni fa, ed è l'ambiente che offre la possibilità di monetizzare in modo migliore con tantissime opzioni a disposizione. Però lo sappiamo tutti, i video brevi non riescono a monetizzarci, i guadagni che si ottengono non sono tanti, per un fattore semplice. Le persone, il pubblico, non è molto attento a quel tipo di pubblicità e quindi c'è proprio un problema. Inoltre, le tecnologie attuali, le opzioni attuali, quello che noi come persone che guardiamo i video brevi riceviamo dalla pubblicità è un'interruzione fortissima tra un contenuto che stavamo guardando e un altro contenuto. È diverso. Ecco, YouTube ha la tecnologia giusta per portare innovazione anche nei video brevi, andando in una direzione che secondo me ha già fatto per i video lunghi, ovvero metterli in mezzo. E se si riuscisse a trovare un buon compromesso con chi fa pubblicità, quindi con i brand, nel creare degli shorts fatti bene, a tema, vincenti, che intrattengono, allora potrebbe diventare davvero una bella innovazione per YouTube e sicuramente un modo per guadagnare molto di più, ma molto di più per tutti quei creator che fanno shorts. Attenzione però a non farvi sfuggire la mano, non bisogna allungare i video il più possibile. I video devono durare il necessario per dire ciò che hanno da dire, per intrattenere per quanto devono intrattenere, per educare per quanto devono educare. Non così a caso perché poi se no le persone vanno via e voi perdete un sacco nelle analitiche generali e quindi non riuscite ad essere competitivi con tutti gli altri. E poi i vostri shorts e anche i vostri video lunghi non saranno visti come prima. Buoni shorts a tutti! Fino a 3 minuti